Weekend di riflessione per le aggregazioni politiche costituite sia a Pagani per provare a stilare un progetto per la città. In questi mesi di commissariamento a seguito delle dimissioni della precedente amministrazione retta dal vice sinnaco facente funzione Anna Rosa Sessa. Due le candidature che a meno di colpi di scena dovrebbero essere confermate. Quella di Enza Fezza, ufficializzata ormai da 15 giorni dal partito di Fratelli d'Italia, e quella di Aldo Cascone, che avrebbe ricevuto il via libera anche dal Partito Democratico. Cascone, che dalla sua avrebbe già pronte tre liste più quella del Partito Democratico, sta cercando di aggregare in una quinta lista espressioni che si identificano nella sinistra locale, senza precludersi il dialogo anche con singoli gruppi impegnati sul tavolo che vede insieme invece gli ex candidati al sindacato di un anno fa. Per questi ultimi non ha prodotto nessuna novità la scadenza di ieri, ancora non c'è intesa sul nome tra quelli proposti da ogni gruppo. Sorrentino, per il gruppo Bottone, Carrara, Pisani, De Prisco e Desiderio, non è escluso che non trovando la quadra si pensi ad un nome nuovo che possa mettere tutti d'accordo. Nel centro-destra, per il momento, il partito di Giorgia Meloni non recede da alcuna intenzione disposta ad una corsa in solitario, pur di non cedere sulla sua candidatura blindata con l'ufficializzazione di due settimane fa e benedetta dall'onorevole Edmondo Cirielli. Forza Italia, Lega e ODC, compreso il gruppo di Pisacane e Sicignano, stanno provando a riunire il centro-destra. Resta il nome di Vincenzo Paolillo, quello sul quale è aperta una seria riflessione, un dialogo, tanto da una parte, tanto dall'altra, potrebbe essere rimesso in gioco anche con il nuovo raggruppamento Cambiamo del governatore Toti, che negli ultimi giorni ha nominato a Pagani un suo commissario, con il compito di interagire per verificare le condizioni di un'unità dell'intero centro-destra, secondo il volere dei leader nazionali. Infine, il gruppo che si sta qualizzando intorno ad Anna Rosa Sessa ed Emilio Bonaduce, un tempo fedelissimi dell'onorevole Alberico Gambino, che al di là del nome da proporre per il sindacato, hanno stilato un progetto ben preciso che passa per la riorganizzazione di tutte le società partecipate, la gestione del mercato ortofrutticolo, oltre alla riorganizzazione dei servizi e della macchina comunale. Giorni caldi in ogni caso si preannunciano sul fronte elettorale nella città di Sant'Alfonso, senza considerare le difficoltà che potrebbero incontrare poi gli schieramenti in campo nelle procedure burocratiche di presentazione delle liste e della documentazione indispensabile.